Immagini razziste, antisemite, filo-naziste sono apparse in alcune chatte private di giovanissimi studenti a retini delle scuole medie e superiori, un caso esploso dopo la denuncia di un genitore ovviamente preoccupato. Occorrono delle ferme e decise condanne di questo anche perché diciamo così la apologia di fascismo è un reato. Si tratta di alcuni meme, ossia immagini associate a scritte create tramite un'applicazione che sono state poi condivise in due diverse chatte di studenti che frequentano le stesse classi, una seconda media ed una prima superiore, immagini dal contenuto esecrabile ed ovviamente condannabile Anna Frank e Vili Pesa, Inni ad Hitler e Mussolini ed infine un'immagine di Cristo inchiodato ad una svastica. Istruire significa offrire ai ragazzi conoscenze circa la storia del Novecento e quindi spiegar loro che cosa è successo prima, durante la seconda guerra mondiale e subito dopo. Le scuole devono impegnarsi da questo punto di vista. Ciò non significa che le famiglie non abbiano compiti specifici di assistenza, di educazione dei loro figli. Questi stessi ragazzi vengono abbandonati a se stessi in contesti dove erroneamente si ritiene che siano protetti, per esempio all'interno delle loro camere. Ma le loro camere sono connesse con il mondo tramite internet. I giovanissimi avrebbero respinto tutte le accuse di razzismo, celandosi dietro ad un ingiustificabile black humor. C'è superficialità, questo probabilmente sì, non si deve scherzare con queste cose che hanno degli effetti tutt'oggi di dolore presso molte famiglie che sono irrimarginabili. Al momento non risulterebbero comunque denunce penali presentate all'ufficio della Polizia Postale di Arezzo.